Io, per riprendere quello che diceva Prima Nevia, ho costruito un mio portafoglio. In realtà adesso lo vedete parzialmente in perdita di qualche punto percentuale, semplicemente perché man mano che vai a chiudere le posizioni ti si riaggiorna continuamente. Comunque questo che vedete è l'operazione su Telecom Italia. Al momento abbiamo qualche operazione in perdita sul Fuzzimib, sul quale sono ribassista, e sul SP500, sul quale sono anch'esso ribassista. Il punto è, questa watchlist che offre BNP Paribas, a mio avviso, è estremamente interessante perché vi dà la possibilità di fare esperienza. Quindi vi dà la possibilità di poter individuare le migliori opportunità e la possibilità di poter seguire ogni singolo prodotto. Però io oggi, prima di dirvi che cosa farò io settimana prossima, anche se poi ve lo dico insomma che cosa sto facendo, tanto è abbastanza semplice, ho aperto delle posizioni a ribasso sull'indice italiano perché sono della stessa idea di Gianluca che ci sarà un possibile ritracciamento e sta in piedi a livello di rapporto rischio-rendimento, ma soprattutto, quindi questa è un po' la mia strategia della settimana prossima, se dovesse salire ovviamente andremo in stop. Io ho una visione però un po' più da trader, un po' più tecnica magari rispetto a quello che abbiamo visto prima, di persona che opera quotidianamente sui mercati. Io non sono d'accordo sul fatto che bisogna utilizzare un prodotto con una leva tendenzialmente bassa per rischiare meno. Il rischio non dipende dalla leva che utilizziamo, secondo me, ma dipende dal controvalore che andiamo a coprire. Ok? Io quando vado a selezionare un prodotto di BNP, cerco sempre il certificato che sia il più prossimo possibile alla barriera, al livello di knockout. Quindi quello che ha tecnicamente la leva più alta e lo stop più stretto. Ok? Vi spiego perché. C'è un tecnicismo in questo. Se la leva è alta e lo stop è la... Quando andate a aprire un prodotto qualunque, andiamo a prendere il Fuzzimib. Vi faccio vedere questa cosa. Così, proprio anche operativamente. Tra l'altro poi se quello che sto spiegando vi risulta difficile o magari avete domande o curiosità, io ho già messo online un webinar che è Trading Live con i Turbo Certificate. Quindi se avete la voglia di vedere una sessione a mercati aperti dove metteremo gli ordini nel book, quindi andremo proprio all'interno della piattaforma, selezioneremo i vari strumenti, per esempio Telecom Italia, andremo a prendere l'ISIN, vi faccio vedere come si fa. Prenderemo l'ISIN, faremo copia, andremo all'interno del mercato, inseriremo in colla, andremo proprio sulla pagina e potremo aprire il link, diciamo il book di negoziazione. Quindi se vi interessa una sessione operativa, il 23 di marzo io faccio una sessione dalle 2.30 alle 3.30 dove facciamo trading direttamente sui certificati. Comunque qui ci sono i biglietti da visa, se vi iscrivete al sito vi arriva la mail e faremo trading sui Turbo. I Turbo sono belli secondo me proprio per questo discorso del fatto che non c'è il compounding effect. Loro non lo potevano dire, però pensate al caso con Monte dei Paschi di Siena, è un titolo che ha avuto una perdita, diciamo, di valore dei prezzi in maniera molto molto forte negli ultimi anni. È sceso tantissimo, no? Poi via via ci sono state le ricapitalizzazioni, ci sono state tutta una serie di cose, però il prezzo continuava a scendere. Ora, se Monte dei Paschi dovesse fare più 500%, chi l'ha comprato due anni fa, altro che compounding effect, non recupera veramente nulla rispetto a quello che... Perché? Perché il prezzo via via ha perso talmente tanto che per tornare ai livelli precedenti ci vuole tantissimo. Quindi questa è un po' una prima analisi. Adesso però vi voglio dare dei consigli, e dei consigli che devono essere legati a come utilizzare questi strumenti. Abbiamo detto che la leva e la distanza dal knockout sono reciproci. Cosa vuol dire? Vuol dire che 100 diviso 11,39, che vedete qua, questo è il Certificate su Telecom Italia, fa 8,78. Allo stesso modo 100 diviso 8,78 fa 11,39. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando aumenta la leva, diminuisce il livello di knockout e viceversa, ok? Più andiamo a prendere un prodotto con leva alta, più la distanza del knockout ovviamente è ridotta, più quel prodotto costa poco. Quando si fa trading, molto spesso vi dicono, dobbiamo rischiare molto poco nelle operazioni che andiamo a fare, ok? Quindi è molto importante contenere il rischio. Secondo me il rischio si contiene molto di più nell'andare a prendere un prodotto a leva alta, ok? Con un'esposizione modesta, e poi vi spiego come si fa ad avere un'esposizione modesta, e con un rischio molto molto basso, ok? Non so se è chiaro per tutti. Lo rispiego. Se noi abbiamo un livello di stop loss molto vicino, Fuzzimib, livello di 20.000, ci mettiamo short, ok? Con lo strike a 20.000, quel certificato costa meno di quello a 21.000, costa meno di quello a 22.000, ok? Molto spesso quando si compra uno strumento e magari il mercato sale molto rapidamente, noi non capita di non mettere lo stop loss e si prende una perdita molto più grande. Però prendiamo una perdita grande su uno strumento che abbiamo pagato tanto, ok? Vediamo se è chiaro. Se ci sono domande, fermatemi, ok? Il punto quindi che cos'è? Nessuno ci vieta, soprattutto visto che molti di questi strumenti sono negoziabili a commissioni zero, che una volta che abbiamo preso il nostro stop sul livello di 20.000 e vogliamo rimanere short, possiamo comprare quello short, quindi il certificato short, sul livello di 21.000. Monetariamente, matematicamente non vi cambia nulla. Nel senso, prendiamo lo stop a 20.000, nello stesso momento in cui prendiamo lo stop a 20.000, compriamo il certificato con strike o con distanza di knockout 21.000, se vogliamo rimanere short, ma se abbiamo preso lo stop vuol dire che non abbiamo capito niente dell'analisi che avevamo fatto. Quindi abbiamo già sbagliato, una volta che abbiamo preso lo stop secondo me sarebbe bene fermarsi e riflettere. Però, supponendo di voler entrare nuovamente su quel determinato strumento, comprate il certificato con strike a 21.000 a un prezzo molto più basso, quindi voi mettete sempre pochi soldi. Vi do un'altra cosa, visto che io gli stop li ho presi, mi sono reso conto di una cosa su questo strumento, che comprare questi strumenti e beccare lo stop non è efficiente. Vi spiego perché. Conviene venderli leggermente prima che il livello di stop venga raggiunto, perché come Nevi vi aveva fatto giustamente vedere prima, ci sono tutta una serie di componenti che tutelano. Tanto voi i volumi li fate lo stesso, eh, quindi... No, giusto perché la... Allora, ci sono degli elementi di protezione, di copertura su questi strumenti, che vanno a riflettersi nel prezzo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu vai a essere colpito a livello di stop loss, è come se utilizzassi o sciupassi tutto quel valore intrinseco, che sono 5-6 centesimi nei certificati che ha fatto vedere prima Nevia, però vai a sciupare, tra virgolette, quel valore prendendo lo stop loss. Quindi la mia idea è, se utilizzo un turbo con strike a 20.000, per intenderci, a 19.980, 70, lo vendo, prendo la perdita e tutt'al più vado su quello successivo. In questo caso salvo parte del valore. 6 centesimi, 5 centesimi, 4 centesimi, fa niente, è sempre meglio di niente. Nel lungo termine salvare questo valore vi porta ad avere delle performance migliori. È chiaro per tutti? È chiaro? Se non è chiaro lo rispiego. È chiaro. Un esempio pratico, ve lo spiego. Ve lo faccio con un disegno molto semplice. Supponete che questo è il vostro certificato che vale 10 centesimi, ok? 0,10 centesimi perché siamo in prossimità del livello di stop loss. Tutto questo valore che io disegno in rosso è un valore di opzioni, cose, eccetera, eccetera, che servono per difendere la vostra operatività in caso di gap di mercato, tutto questo genere di cose. Quindi, questi strumenti, allora, primo vantaggio, vi danno la possibilità di poter lavorare con una size molto molto piccola e quindi non avete questa problematica di dire può andare sotto con i contratti per differenza, può succedere che il mercato faccia un gap molto alto e il conto vada in negativo se c'è una leva molto alta. In questo caso non succede perché voi quello che investite in certificati è come se fosse il vostro margine, ok? All'interno di questo ammontare che investite come margine, una parte è l'assicurazione che voi state pagando perché il certificato non vada in negativo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa parte è un qualcosa in più che pagate nel prezzo appena sopra il livello di stop loss, per esempio 20.000, ok? Quindi quando arriva 20.000 voi perdete questo valore, che è il valore che varia sul variare del prezzo del sottostante, più questo piccolo valore. Ecco, se voi uscite a 19.980 questa parte non la perdete e la date a qualcun altro, ok? Quindi date questa parte di assicurazione, è come se voi aveste l'assicurazione della macchina e dopo averla usata un anno, dopo 364 giorni, dite no guardate che l'assicurazione non la voglio fare più, la date a un altro, il 365 giorno la macchina non la usate, ok? Perché uscite dalla posizione. Questo vi fa risparmiare parecchio. Detto questo non dobbiamo andare in stop, ok? Però a me serviva giusto per darvi qualche trucco per essere il più possibile efficienti, ok? Ora, il punto che voglio approfondire in questa fase invece è legato magari a delle operatività che possiamo fare. Sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito prima sia da Gianluca sia nell'analisi macroeconomica che è stata fatta precedentemente. Io sono tendenzialmente ribassista sulle borse. Anche se c'è un però, noi abbiamo scritto un articolo qualche giorno fa dove andando a leggere la consueta lettera che Warren Buffett rilascia agli investitori della Berkshire Hathaway lui dice guarda che però non è cosiddetto che il mercato in questo momento sia così tirato perché è vero che sta salendo, continua a salire, ma c'è un punto che è quello legato ai rendimenti. I rendimenti sui bond sono talmente bassi che effettivamente potrebbe essere ancora favorevole selezionare e scegliere un appetito per il rischio maggiore e quindi andare a investire in azioni. Ok? Perché ci sarà un momento in cui investire in obbligazioni sarà più interessante che investire in azioni ma in questo momento i dividend yield del SP500 sono ancora intorno al 3,98%, 4% e voi non trovate nessuna obbligazione che vi renda il 4%, obbligazione decente cioè non una roba su un'azienda che sta fallendo. Ok? Quindi tra l'altro qui abbiamo dei picchi, delle varie bolle che ci sono state quali erano i rendimenti in quella fase. Ecco quindi in realtà quello che sta succedendo, i prezzi salgono, non salgono allo stesso modo gli utili che le aziende fanno, se il prezzo è troppo alto e gli utili rimangono costanti o crescono un pochettino, di fatto queste aziende rimangono sempre meno interessanti per l'investitore. Tradotto, questo valore che vediamo qua sta scendendo, siamo passati dal 7,5% post-crisi diciamo quando poi la crisi poi in realtà esiste solo in Italia perché il DAX è su livelli pre-crisi ben maggiori rispetto a quei livelli, l'SP è su livelli ben maggiori rispetto a quelli che c'erano nella crisi quindi il punto che cos'è? Che questo valore sta scendendo, quindi i prezzi tendenzialmente stanno salendo probabilmente se dovesse scendere ancora sotto magari il livello di 3,20, 3,10, 3%, complice anche un incremento dei tassi di interesse americani che potrebbero portare a nuove emissioni a tassi più alti di fatto obbligazioni, debito, quindi capitali di debito e capitali di rischio avrebbero lo stesso rendimento e a quel punto le persone andrebbero a investire in capitali di debito e non capitali di rischio quindi con conseguenti vendite sull'azionario. Prego. Sì, vabbè, è uguale nel senso, cioè nel senso non è uguale ma è meglio l'earning yield nel senso che la Berkshire Rathaway non paga il dividendo, quindi il dividend yield potrebbe essere un valore fuorviante l'earnings invece... Certo Sì, sì Esatto Sì, allora il punto è capire il momento in cui Sì, sì, spiego una cosa che mi sono espresso male quindi voglio che sia chiaro per tutti Io prima ho parlato erroneamente di dividend yield Il dividendo è quello che l'azienda paga all'investitore, ok? Che è generalmente una quota a parte degli earnings, ok? A volte possono anche non fare earnings ma possono pagare il dividendo Quindi questo valore è più preciso perché considera soltanto gli utili, ok? Quindi utili, appunto, sui prezzi. Il punto qual è? Man mano che i prezzi salgono, questo... se gli utili rimangono costanti questo valore scende Man mano che salgono i valori dei rendimenti e delle obbligazioni questi due valori tendono ad avvicinarsi Nel momento in cui non esserci più lo stesso appetito per il rischio sull'azionario Il problema è che la gente venderebbe l'azionario per comprare l'obbligazionario Che a quel punto sarebbe di nuova emissione che sarebbe più attrattivo O anche di vecchia emissione perché costerebbe poco Perché probabilmente sarebbe sceso a livello di prezzi Pensate al Matusalem, il bond italiano che ha scadenza 50 anni 2067, quello è sceso tanto come quotazioni Quindi per dire avremmo una stessa dinamica che potrebbe presentarsi sui bond Che potrebbero diventare interessanti Questo per dire che cosa? Che probabilmente i tempi non sono ancora maturi per un ribasso così forte Quindi se mi chiedete ma perché ti vuoi mettere short Che il mercato sta salendo e tutto quello che ci ha spiegato Gianluca prima Di fatto dice che bisogna andare in direzione del trend, seguire analisi tecniche eccetera Perché su un trend palesemente a rialzo ti vuoi posizionare a ribasso Il punto secondo me è da spiegarsi nel fatto che Se facciamo un'operatività abbastanza breve, abbastanza veloce Di fatto la direzionalità, magari il trend di lungo termine Non ci interessa tantissimo Quello che ci interessa magari è andare a sfruttare i movimenti degli ultimi 10-15 giorni E questo per esempio che è l'indice italiano Io ci vedo di fatto in sostanza che cosa vedo? Vedo che c'è stato un movimento da 18.500 punti Dove il mercato è partito È arrivato in prossimità dei massimi Probabilmente molte persone sopra quei massimi Utilizzeranno delle tecniche di breakout e si metteranno long E verranno stoppate quando il mercato scenderà Il rischio legato a quest'operazione Se utilizzo un certifico turbo con strike a 20.000 punti È veramente irrisorio Perché è short da 20.000 punti Il rischio è legato a 200-300 punti Che tradotto in soldi Ve lo faccio vedere quant'è Perché io ce l'ho il turbo short a 20.000 punti Vi dico un'operazione che copre Tanto per essere pratici Che a me piace essere pratici Allora turbo short Qual è quello a 20.000 punti? Ce ne sono due Vediamo se abbiamo capito Qual è quello a 20.000 e quello a 20.500 Sono il secondo e il terzo Chi è che indovina quale è uno e quale è l'altro? Esatto Quello che costa meno è quello Aprire una posizione su questo strumento In questo momento Per coprire un controvalore di 10.000 euro Costa 200 euro Ok? È bello Perché noi prendiamo un controvalore di 10.000 euro E mettiamo a mercato un rischio di 200 euro 200 euro non è un importo enorme Ma nel momento in cui ci fosse un ritracciamento forte del mercato Che non serve il 7% Basta l'uno e mezzo Si fanno un bel po' di soldi A fronte dei 200 che abbiamo messo sul mercato Quindi non serve mettere sul mercato 7 milioni di euro E prendere quello a 24.000, 25.000 Perché devo prendere uno strumento con strike a 25.000 Quando il mercato è a 20.000 Cerchiamo di essere efficienti e mettiamo poco Ok? In questo modo posso gestire la mia posizione al meglio Perché mettiamo che ci sia una giornata particolarmente positiva Se siamo esposti sul 24.000 short E comincia a salire E io lo voglio tenere Rischio di prendere una perdita molto molto ampia Ok? Perché va su 20.000, 25.000, 21.000 Perché nessuno sa dove potrà andare Se invece io a 20.000 vengo stoppato Posso pensare, riflettere Farmi un giro Io fumo le sigarette Fumarmi una sigaretta Riflettere e magari comprare il 21.000 Tanto tra 20.000 e 21.000 ci mette un po' ad arrivare Posso farlo anche il giorno dopo Non dobbiamo stressarci Se quando facciamo 13 Stressiamo Tecnicamente è un problema Perché Secondo me bisogna essere abbastanza elastici Insomma Nell'operatività Bisogna avere anche un po' di Secondo me appunto bisogna Bisogna gestire le posizioni Una posizione da 200 euro Dove avete messo 200 euro Di fatto Non penso che vi possa generare tutta quest'ansia Allo stesso modo Vedete quello che abbiamo fatto su Telecom Italia Abbiamo avuto un movimento importante Le percentuali Non consideratele Le percentuali sono qualcosa che In questo caso soprattutto se utilizziamo una leva molto molto ampia Si muovono tantissimo Quindi ragionate in euro Su questo tipo di prodotti Se la usate questa leva molto molto alta Quindi ragionate in euro Su quello che è il valore corrente Ok E guardate di quanto si sposta 122 202 In questo caso avete un'idea più chiara Vi do un altro input Sempre su questo La domanda che vi dovete fare Secondo me Quando iniziate a fare questo tipo di operatività È Quanto voglio investire? Com'è che faccio questo calcolo in maniera semplice? Quando io utilizzo i Turbo Io dico per esempio Voglio comprare 10.000 euro I conti sono due 10.000 euro di controvalore Divido per la leva 11.39 in questo caso Avanzano circa 800 euro Più o meno Divido per il prezzo del certifico E te capisco quanti certifiche devo comprare Ok? Ripeto Decido quanto voglio investire Perché il punto Non è la leva che utilizza Secondo me Cioè da investitore Da persona che opera sul mercato tutti i giorni Il punto è Che Lei Quando Fa i conti a fine mese Deve fare questo ragionamento Se io investo 100.000 euro E guadagno l'1% Ho guadagnato 1.000 euro Se perdo l'1% Ho perso 1.000 euro Tanto Poco Non ci interessa Perché la sua situazione patrimoniale È diversa da quella del signore Diversa da quella dell'altro signore Quindi Il punto è Se io guadagno L'1% Su un investimento Da 10.000 euro Sono 100 euro Tanti Pochi Pochi Ne farò 20.000 Pochi Ne farò 30.000 Ok? Quindi voi dovete ragionare Io ho avuto diverse discussioni Con persone che parlavano Di money management 22% O 3% Tutte queste cose Io ho sempre pensato Che tutte queste cose Siano dei ragionamenti Che non stanno in piedi Perché bisogna ragionare in euro Perché uno la spesa La fa in euro Giusto? Partendo da euro Allora La prima domanda Che si deve fare È questa Secondo me Qual è un importo Che perso Non mi genera Nessun tipo di problematica Neanche a livello di stress A livello di Di niente Ok? Questa è la prima domanda Monte Poi Voglio comprare Fiat Ok? Se Voglio perdere Al massimo 500 euro Per dire Sono disposto A sopportare Una perdita di Fiat Del 5% 5% Rapportato A 500 euro Vuol dire Che devo andare A comprare 10.000 euro Di controvalore Giusto? Ci siamo? Aspetta È giusto? Ok Quindi Voglio perdere Al massimo Il 5% Voglio perdere Al massimo 500 euro Vado a comprare 10.000 euro Di Valore Valore Non certificati Di valore Bene 10.000 euro Di valore 10.000 euro Di valore Se mi offrono una leva A 10 20 30 40 Speriamo che mi offra Una leva Il più alto possibile Perché in quel caso Dovrò metterci Meno soldi possibile Ok? Supponiamo che la leva Sia 10 Devo comprare Certificati 10.000 Diviso 10 1000 Ok? Devo comprare 1000 euro Di certificati Ok? Comprando 1000 euro Di certificati Ammesso Che valgano 1 euro l'uno Perché facciamo Dei colti semplici Cosa vuol dire? Vuol dire che devo Comprare 1000 Turbo Ok? Basta Tra l'altro Molti di voi magari Fanno trading Con le piattaforme Tradizionali Questi strumenti Si comprano E basta Sia i long Che gli short Non si vende Il prodotto short Si compra Lo short E si apprezza Di valore Se il mercato scende Ok? È chiaro per tutti? Per chi mi chiedeva Della liquidità Prima c'è stata Una domanda Io ho visto Su questi pezzi Generalmente Ci sono sempre Almeno 200 Sul fuzzimi Mi sembra 200 Rotti mila pezzi Sia in denaro Che in lettera Quindi ce la fate Tranquillamente A comprarli Senza Senza problemi E nel momento In cui li andate A comprare Ve li rimettono Quindi comunque Non c'è Questi sono meglio Questo prodotto È molto più efficiente Cioè Io non ho mai avuto Problemi Ho provato A mettere I prezzi In mezzo Al bidask E si riesce A metterli E non ho mai avuto Problemi Nell'uscita Dalla Dalla posizione Quindi Se tu vuoi vendere A mercato C'è sempre qualcuno Che te li riprende Cioè Loro Se li riprendono Quindi La E comunque Gli spread Sono Modesti E tradabili Più Sì Seguendo la tua logica Di Spendere poco Sì 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 Certo Il più vicino Ai prezzi Attuali No Se io sono convinto Se io sono convinto Che Il prezzo Cambia Continuamente Più va In prossimità Più sale Più lo short Costa di meno Perché perde valore Quindi Lo paga Sempre meno Più va Verso lo stop Quello che vi dicevo Prima Occhio Lo stop Non prendetelo Perché non è efficiente Prenderlo stop Quindi Appena sono vicino Allo stop Vendo tutto E tutto Al più mi compro Quello sullo strike Successivo Ok Sulla scadenza Successiva Lei ci guadagna Ma aumenta di valore Lei prima lo compra E poi lo vende Ok Non è come Per esempio Un Un future Che lei può Venderlo Senza averlo Ok Quindi questi prodotti Quelli a ribasso Aumentano di prezzo Se il mercato Scende Ok Detto questo Tra i vari Vi voglio segnalare Un'operazione Che sto facendo E che sta andando male Quindi visto che sta andando male La voglio proporre Anche a voi Così la facciamo andare E perdiamo tutti quanti No Allora Io Tra le varie operazioni Che ho in portafoglio Quella sulla quale Ero più convinto E sereno Ne ho due Che mi piacciono molto Una che guadagna E una che perde Ve le voglio far vedere Entrambe Allora Partiamo da quella Più facile Che è quella che guadagna Così posso avere qualcosa A sostegno della mia tesi Poi invece parliamo Di quella che perde Così almeno Faccio un po' più fatica A sostenere la mia tesi Quella che guadagna È questo spread Che abbiamo fatto Tra Unicredit E intesa Se andate a vedere I fondamentali Di intesa Sono migliori Rispetto a quelli Di Unicredit Tra l'altro Unicredit È appena stata Oggetto Di un'operazione Sul capitale Ora Quando tu vai a chiedere I soldi al mercato Tendenzialmente Lo fai Perché le cose Non stanno andando benissimo E non sei particolarmente Performante Ok Quindi secondo me Nel lungo termine Considerati Quelli che sono I dati fondamentali E gli utili Che sta facendo Intesa In questo momento Il dividendo importante Che pagherà Ci saranno più acquisti Più che sul titolo Intesa In realtà se volete Prendere un titolo Secondo me È meglio fare Le intesa risparmio Che sono ancora quotate Sapete qual è la differenza Tra il titolo Risparmio E il titolo Ordinario Il diritto di voto Solo che visto che Nessuno di noi Ci si chiama Bazzoli Di cognome Di fatto Il diritto di voto Ci interessa Fino a un certo punto No? Quindi Avete delle agevolazioni Quindi se dobbiamo Fare proprio il titolo Sul sottostante Vi conviene fare quello Detto questo Tra unicredit E intesa Le recenti performance Ma comunque in generale Ci fanno propendere Per un apprezzamento Migliorativo Diciamo Della quotazione Di intesa Rispetto a quelle Che sono le quotazioni Di unicredit Quindi intesa Lo abbiamo comprato Ci siamo messi a rialzo Su intesa E unicredit Lo abbiamo venduto Questo a prescindere Dal fatto che il mercato Salga o scenda Nel senso che io È vero che sono ribassista Sul fuzzimib Come idea Perché come rapporti Rischio rendimento Sta in piedi Perché Per tutta una serie Di ragioni Però secondo me Andando a selezionare Due titoli Io penso che Intesa sia meglio Di unicredit È una mia idea Che può essere condivisibile Meno condivisibile Ci può essere Qualcuno che diceva Unicredit ha perso di più Allora compro unicredit E vendo intesa Generalmente È meglio comprare Aziende che vanno bene Ed è meglio vendere Quelle che vanno male Pensate a Facebook E a Twitter Facebook fa i soldi E li fa per davvero E sta salendo E probabilmente Continuerà a crescere Perché i soldi Li fa per davvero Twitter i soldi Non li fa E il titolo di fatto Ottiene dei risultati Meno Ma non è che adesso Lo spread tra Facebook E Twitter si chiuderà E quindi Twitter salirà E Facebook scenderà No Facebook continuerà A fare più soldi E Twitter Continuerà a farne Sempre di meno Ma infatti Dobbiamo chiedere A BNP Se ci quota Un bel Turbo short Su Snapchat Così almeno Ci mettiamo Perché Snapchat Avrà secondo me Il movimento Uguale a quello Di Twitter Che è salito Sulle aspettative Sul nulla Perché perde i soldi E poi di fatto La gente Prende consapevolezza Del fatto che In realtà È un'azienda Che non fa una lira Ok Questa è un po' La mia idea Quindi se mi chiedete Cosa ne penso di Snapchat È che secondo me Tutti quelli Che si sono appesi Nel comprare Stanno comprando Stanno comprando un'azienda Che non fa utili Probabilmente Non li farà mai E l'unica opportunità Che ha di apprezzarsi È che qualcuno Se la fa gociti Ok? Ma non lo farà a questi prezzi Lo farà magari Quando sarà molto bassa Quindi io Non amo comprare Le aziende Che valgono poco Nella speranza Che qualcuno Se le compri Perché vivi Sulla speranza Ok? Quindi Operazione Di credit Intesa Qualcosa di estremamente Semplice Secondo me Legato ai fondamentali I fondamentali Ve lo dico Potete trovarli ovunque Io Che non sono uno scienziato Li guardo su Google Finance Ci sono migliaia di Potete usare Quelli che volete Potete usare Se ce li avete All'interno di alcune Strumentazioni Anche Fineco Per dire Vi da Tutta una serie di valori Però quello che vi basta Lo trovate Su Google Finance Google.com Slash Finance Andate qua E trovate Tutti i dati Possibili Immaginabili E quelli che vi Possono interessare Il PE E tutti I learning per share E tutto il resto I margini E tutto quanto Tra l'altro Io esorto Andare a vedere Anche I dati Di diversi bancari Perché Per esempio Oggi BNP Che ci ospita Appena fatto Un utile Di 7,7 miliardi Che è un risultato Importante Ed è una delle realtà Più Che si sta Che si sta muovendo Meglio Questo non lo dico Perché siamo qua Da BNP Ma perché è vero E niente Quindi Magari possiamo pensare Di fare uno spread Su queste cose Comunque Tornando Invece All'operazione Che sta andando male È quella su Mediaset Ok Quindi questa Condivisibile o meno Però si può andare A comprare E a vendere I certificati Con Aspetta che ve li faccio vedere Io Si può andare a comprare A vendere Questi certificati E cliccando su questi livelli Trovate appunto I prezzi E gli ISIN Per andare a prendere Quelli che ho preso io Qui li ho presi Un po' più distanti Dai livelli Relativi Di strike Perché essendo Un'operazione Non direzionale Ho bisogno Di dare un po' Di spazio Ai movimenti Qualora uno Dei due Dovesse Essere colpito Andrei A chiudere Anche l'altra posizione Quindi dovessi Prendere lo stop Su uno dei due Perché l'altro Continua a quotare Chiudo entrambe Le posizioni Oppure E rifaccio Una nuova posizione Oppure Quindi con entrambi I vari certificati Oppure Ricompro Sullo strike successivo Quello che è andato In stop Ok Tanto finanziariamente Non cambia niente Ok Torniamo all'operazione Che va male L'operazione che ho aperto E che quindi se doveste Valutare Ovviamente Sotto la vostra responsabilità Il vostro rischio Di fare La stessa operazione La fareste molto meglio Rispetto a come l'ho fatta io Nel senso che Io ho aperto Queste posizioni Su Mediaset Qualche tempo fa Una settimana Dieci giorni fa E le ho aperte I prezzi 0,50 E 0,75 In questo momento Il certificato A 0,75 Ho quota A 0,65 E il certificato Che quota Ava 0,50 Quota 0,41 Ok Quindi Quello che costava meno Ha perso Per assurdo In percentuali Di più Perché Lo spazio Verso lo stop loss Si è ridotto Ancora di più Questo per dire Che cosa Andiamo sul titolo Mediaset Titolo Mediaset Abbiamo visto Che c'è stato Un movimento Un movimento A rialzo Piuttosto importante Quando c'era stato Tutto il discorso Legato a Vivendi Ve lo ricordate? Possibile acquisizione Tutte queste cose qua Benissimo Il titolo è arrivato Su dei livelli altissimi Ha raddoppiato La sua quotazione Da 2,2 A 4,4 Quindi vuol dire Che noi avevamo Una cosa Che qualcuno Ipoteticamente Se la sarebbe dovuta Comprare Che era Mediaset Ha raddoppiato Il suo valore Ed è arrivato In altissimo Dove è stato Poi pian pianino Le voci sono raffreddate E il prezzo Ha iniziato a scendere Fino al livello Di 4 euro Dove si trova adesso Ultimamente Negli ultimi giorni C'è stato Un ulteriore rialzo Di questo titolo La domanda Che vi dovete fare Secondo me È Ma i fondamentali Supportano Questo titolo Cioè Voi comprereste Mediaset? No Voi? Perché Non la comprereste? A prescindere Dalle simpatie Dalle antipatie Nei confronti Del direttore O del proprietario Del presidente Ma Eh L'area di Opa Compri su una speranza Come abbiamo detto prima Twitter Lo snapchat La cosa Eccetera eccetera Però non compri Sul valore Cioè Quando tu compri Alphabet Google Stai comprando del valore Cioè Io vedo le fatture Che mi arrivano Da Google Cioè Arrivano per davvero Su altre realtà Invece non compri il valore Quindi Qui Il titolo è salito tantissimo Benissimo Chi è che è andato a vedere I fondamentali? Avete detto Io non lo comprerei Ma i fondamentali Li avete visti? No Ve li faccio vedere In maniera spiccia Sicuramente Sul dato di Sul sito di Milano Finanza C'è molta più roba Però io Ve li faccio Vedere da Google Da Google Finance In maniera molto Molto veloce Il Mediaset E vi faccio vedere Una cosa molto interessante Ovvero Che Mediaset Ha un pie con un trattino Cosa vuol dire Che perde i soldi Ok Perdere i soldi vuol dire Che tu Col passare del tempo Bruci valore Ok Quindi sei salito Su un'aspettativa Nonostante tu stia perdendo i soldi Compreresti questa azienda Bene Andiamo avanti Adesso Settimana prossima Mi chiamano Da Quindi non farò mai più Tgcom Allora Poi Andando qua sotto Vediamo una cosa Che nel 2015 Mentre c'erano Dei risultati Net operating margin Positivi 314 No Nel 2016 Questo è il Q3 Che cosa vediamo Vediamo che i costi Rimangono costanti Probabilmente la raccolta Pubblicitaria si riduce Magari in virtù Del fatto che Molta raccolta pubblicitaria Non va più sul canale Tradizionale Io sono convinto Che Tra un po' di anni I canali Importanti Saranno i canali YouTube Cioè io penso che Tra dieci anni Probabilmente la televisione Sarà on demand E chi avrà un canale Molto importante Su YouTube Avrà la possibilità Di vendersi le sue frequenze Questo è quello che io penso Nel futuro In generale Quello che vedo È che questo è un tipo Di media Che sta un po' passando No? Col tempo E i risultati Non gli danno Per niente Favore Tanto è vero Che nel 2015 Aveva un margine operativo Molto basso A me piacciono A me piacciono tutte quelle aziende Che hanno margini operativi Che vanno dal 15% In su Ok? Perché vuol dire Che hanno un cuscinetto Sufficiente Che se qualcosa Dovesse andare male Comunque La tirano Abbastanza in pareggio Ok? Quindi se abbiamo Dei margini operativi Molto alti 30 Guardate per esempio Il mio titolo italiano preferito È Banca IFIS No? Banca IFIS Ha dei margini operativi Molto alti Compra e non performa in longa Al 3% E recupera al 10 Fa circa il 300% Su quello che 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 Sugli acquisti Esatto Esatto Perché Esatto Però ha dei margini Molto alti La volta che dovesse andare male Qualcosa Probabilmente Perderebbe di meno Ma perché avrebbe guadagnato Anche sul resto E quindi magari La società andrebbe in pareggio Qui abbiamo Dei margini Molto molto bassi Il che vuol dire Che se appena qualcosa Va storto Si perdono i soldi Ok? Ed è quello che è successo Nel 2016 Quindi ci troviamo Di fronte a un'azienda Che ha raddoppiato Il suo valore Giusto? Andiamo a Prenderlo Qua Che ha raddoppiato Il suo valore Che stava giustamente Scendendo Perché stava giustamente Scendendo Poi Ultimamente Si è messo qua Ci mettiamo Anche nella situazione Nella quale Probabilmente L'indice italiano Potrebbe avere Un ritracciamento Ok? Quindi L'indice italiano È tirato Potrebbe Ritracciare Probabilmente C'è la fase di maggio Da maggio in avanti Che è una fase Storicamente Tendenzialmente Negativa Per i mercati Un posizionamento Arrivasse Su questo titolo Secondo me È uno dei titoli Che potrebbe essere Meno difensivi Di tutti Ed è un titolo Che potrebbe avere Dei gap Negativi Negativi Molto Molto Forti Quindi Io sto perdendo Ve lo segnalo Perché Mi fa anche piacere Condividere Non solo Perché Sennò sembra che Guadagniamo sempre No no Perdiamo anche Quindi Io su questo Sto perdendo Se l'idea Che ho proposto Dovesse essere In linea Con quello Che potrebbe essere Un orizzonte Di investimento Insomma In questo caso Entrate molto meglio Rispetto ai prezzi I quali sono Sono entrato io Bene Da ultimo Vi voglio segnalare Qualcosa Con riferimento Alla Stagionalità No pensavo Ci fosse Da inserire Qualche ulteriore disclaimer Lo ridico Visto che è registrato Ovviamente Tutte le cose Che abbiamo proposto Che vi abbiamo fatto vedere Se lunedì mattina Dovesse valutare Di replicarle Sono fatte assolutamente Sotto la vostra responsabilità Queste sono Idee Operative Che però Partono da quella Che è la mia idea Di trading Poi ognuno Nella sua stanzetta Davanti al pc Può cliccare E fare quello Che vuole In completa autonomia Questo qua È uno strumento Che si chiama Forecaster Che secondo me È molto interessante Perché Ci dà la possibilità Di capire Qual è stato L'andamento Della stagionalità Nell'ultimo Nell'ultimo Negli ultimi Negli ultimi anni Abbiamo la possibilità Di poter selezionare Tutta una serie Di anni Quindi da 10 20 30 anni Vi segnalo Ho preso Come dati Dal 13 di marzo Quindi da lunedì Fino al primo di giugno Come orizzonte temporale Per darvi un attimo Un'idea di quello Che potrebbe succedere Sugli indici Borsistici Nei prossimi mesi Quindi da qua A giugno Quello che vedete È L'andamento Quello in rosso Non so se si vede No Quello in giallo È l'andamento Dell'anno scorso Questo è l'SP500 Abbiamo dei picchi A volte Sono degli Diciamo Degli errori Vengono presi Dei dati Però quello che ci interessa È che In questo periodo Da domani Diciamo Se consideriamo L'anno scorso A Il primo di giugno C'è stato Sull'SP500 Un andamento Positivo Sia l'anno scorso Che Negli ultimi Cinque anni Negli ultimi Sette anni Questo per dirvi Che cosa Che questo è un momento Nel quale L'SP Non è ancora maturo Per fare il suo movimento Ribassista Importante Che tutti si attendono Questa mattina Io l'ho ascoltato Con attenzione Brambilla diceva Questa è la view Probabilmente ci sta Un movimento ribassista Ma non arriverà adesso Potrebbe arrivare Tra due mesi Giusto? Io sono d'accordo Con questa tesi Secondo me Adesso potremmo Vedere degli storni Due, tre, quattro, cinque per cento Queste cose qua Ci possono essere Però il vero movimento C'è un ciclo ribassista Che rompe le trendline Che va a rompere dei livelli Importanti Che apre scenari Ribassisti importanti Secondo me Non è ancora maturo Dobbiamo attendere Secondo me Uno Barra due E rialzi Fed Aumento del costo del denaro Che deprime il valore dei titoli Che deprime Tutta una serie di cose Allora forse solo a quel punto Il mercato sarà pronto Per fare quello che viene detto Uno sciacquone Diciamo Un movimento molto molto forte Perché sappiate Che si sale con le scale E poi spesso si scende Con l'ascensore Ok? Quindi si scende In maniera È vero o no? È vero o no? Quindi tendenzialmente succede questo E poi c'è questa discesa molto forte Bene Mi dispiace per tutti coloro Invece che sono esposti Sul mercato azionario italiano Perché la stessa cosa Non si può dire sul Fuzzimib Ovvero Mi hanno buttato fuori Poi Scusate ma mi devo rilocchiare Bravo Vi faccio vedere Che cosa dice La stagionalità Sul Fuzzimib Se scende il Fuzzimib E banca intesa Scende il credito Sì Però noi dobbiamo essere Eggiati Long Di banca intesa Che scenderà Meno di unicredit Se dovesse scendere Probabilmente Almeno questo è quello Che penso io Quindi Dal 13 di marzo Ok Allora Non ho capito No io sono Short Se il mercato scende Unicredit perde di più E quindi il nostro certificato Lo short guadagna Quindi quello che Esatto Esatto Allora Se parliamo di prezzo Del certificato short Facciamo più soldi Quindi Se il mercato scende Lo spread Intesa long Unicredit Short Tendenzialmente Dovrebbe essere pagante Nel 90% Non ho fatto statistica Ma ve lo dico Cioè Tendenzialmente Col mercato Che scende Long intesa Short Unicredit Dovrebbe essere pagante Secondo me Pagante pure Se il mercato sale Perché Unicredit I soldi Ne fa di meno Rispetto a intesa E quindi Secondo me Intesa È più efficiente In questo momento Poi magari faranno Una ristrutturazione Le cose cambieranno Però in questo Però in questo Particolare momento Storico Io Da Investitore Della strada Retail Di fatto Perché questo sono Preferisco Essere azionista Di Unicredit Di intesa Piuttosto che Di Unicredit Ok In questo particolare Momento Sono stato azionista Di Unicredit In passato Allora Questo è invece L'andamento Sul 5 anni Vi aggiungo L'anno E vi aggiungo Magari anche Il 7 anni Così vi aggiungo Un po' di dati Questo è un Time frame Giornaliero Ecco Abbiamo diversi dati Soltanto Nel decennale Abbiamo un movimento Rialzista Però Quello che Ci interessano Sono magari Il 5 e il 7 anni Che considerano Allora Verde Un anno 5 anni E quello giallo E il 7 anni Quindi una media Gli ultimi 7 anni E quello Rosso Però io Quello che vedo È che è una tendenza Di fatto Mediamente Ribassista Molto più Ribassista Rispetto a quella Che abbiamo visto Prima Quindi Altra idea Operativa Cosa potrebbe Essere Short Sul certificato Turbo Fuzzimib Quindi per sfruttare Quello potrebbe essere La stagionalità La stagionalità Sembra una stupidaggine Però in realtà È utilizzata tantissimo Vi faccio un esempio Quando mi chiedono La stagionalità Io dico Pensate a Il dato più importante Dell'economia americana È uscito ieri Ed è il dato Sui non farm payroll Pensate Com'è costruito Non farm Tutti I Diciamo I lavoratori Impiegati Nel settore agricolo Che è tipicamente Ricorrente stagionale Vengono esclusi A questo calcolo Cosa vuol dire Vuol dire Che la La stagionalità La controllano Lo studiano E come Pensate al detto Più famoso Di borsa Selling may And go away No Che in realtà Poi è un po' più avanti Verso fine may Però Il punto Che cos'è È che c'è Una ricorrente stagionale Perché se gli americani Pensano che devono vendere A fine maggio Probabilmente Perché storicamente A fine maggio Ci sono un po' più di Situazioni Sul petrolio Su tutti quegli strumenti Commodities La stagionalità Incide Il consumo La richiesta Pensate a riscaldare Le case Piuttosto che Quindi La stagionalità È una cosa Che secondo me Andrebbe studiata Andrebbe approfondita In tutto questo Quello che vediamo È che L'indice italiano È tendenzialmente Più debole Abbiamo una cosa Fortunata Perché oggi Siamo venuti qua E L'indice italiano Si trova Di fatto Sui Massimi Come giustamente Ci ha fatto vedere Gianluca prima Andiamo Ve lo metto un po' più grande Così si vede bene Adesso cerco di essere Un po' Move Configura Ve lo metto un po' grande Siamo di fatto Sui massimi Da un bel po' di tempo A questa parte Giusto? Quindi andare a vendere Italia Oggi A prescindere dal fatto Che voi vogliate Ridurre il rischio E quindi comprare America Quindi ci sono due possibilità Vendo come giustamente Ha detto Gianluca Italia O lunedì E cerco di prendere Il ribasso Che anche dal punto di vista Grafico ci sta Oppure Ho un po' paura Cosa faccio? Vendo Italia E mi compro un po' di SP500 Compro dei certificati Sull'SP500 Strike Magari 2200 punti Quindi long Con strike Knockout A 2200 punti Copro la mia posizione Quindi vado Un po' long Un po' short Compro quello Che dovrebbe essere Più forte Che ha performato meglio Vendo quello Che dovrebbe essere Più debole E che ha performato peggio Che però ultimamente Mi ha fatto vedere Una forza superiore Rispetto all'SP500 Quindi avete diverse opportunità Poi dobbiamo capire appunto Attraverso i Turbo Come metterle in atto E su questo appunto Io vi faccio un minimo di pubblicità Però qui avete la sezione Sul nostro canale YouTube Che è quella di Diciamo il canale YouTube Di investire.biz Che comunque Ha circa 7000 iscritti E oltre un milione e nove Di visualizzazioni C'è una sezione Che si chiama Caccia di rendimenti Investire con i certificati Dove noi andiamo a spiegare O meglio io in particolare Vado a spiegare Come imposto Determinate operazioni E quali sono i ragionamenti Che faccio Quindi l'operatività live Come funzionano i Turbo Insomma lo short su Eni Che sta andando piuttosto bene E quant'altro Ecco Eni per dire Secondo me è un titolo Che potrebbe avere Un ulteriore ritracciamento Superiore A quello che abbiamo visto Fino adesso Quindi La perdita di valore Diciamo Del mercato Del listino italiano Potrebbe dipendere Da due fattori Uno è quello legato Al comparto bancario L'altro è quello Che potrebbe essere legato Al comparto energetico Ok Che potrebbe avere Una flessione Secondo me anche quello Più quello bancario Che quello energetico Però in generale Potrebbe esserci Io Non mi voglio Dilungare troppo Perché comunque Gli argomenti Sono tanti E vi ricordo C'è il webinar Il 23 Qui trovate I miei biglietti Da visita Io sono assolutamente Disponibile A rispondere a tutte le domande Eventualmente Che vorrete farmi Tanto non ho fretta E vi esorto Iscrivervi al Al Diciamo Al webinar Dove vedremo E faremo Operatività In tempo reale E soprattutto Se siete interessati A provare il software Sulla stagionalità Se ci mandate Una mail E dite che eravate Presenti qua A BNP Paribas Diciamo All'evento di BNP Paribas Ve lo regaliamo Per un mese Per Per vederlo Se no c'è un abbonamento Mi sembra di 99 euro al mese E ha circa 20 strumenti Però ve lo regaliamo Ok Provo Provo Si sente Allora Grazie a Dico Se qualcuno ha delle ulteriori domande Da fare Questo argomento Un argomento leggero No Non c'è il turbo Sulle commodities Quindi Non possiamo Mini future Ci sono Sì esatto Ci sono dei prodotti Non ci sono Ci sono i mini future Ci sono i mini future Ci sono i prodotti a leva Di cui ho parlato Nevia prima Di mini future Sulle commodities Quindi basta andare sul sito Andare sulla sezione Di mini future Andare su Sottostante E si trova Ci potrebbero andare A vari sottostanti Allora io volevo Brevemente concludere Questa giornata E innanzitutto A nome di BNP Paribas E di Milano Finanza Volevo dire grazie a tutti Per essere stati qui presenti In questa prima giornata Di formazione operativa Che è anche la prima volta Che abbiamo un evento Di questo In questo palazzo In quanto ci siamo trasferiti Qua più o meno Un mese fa Quindi siete i primi Ad essere venuti E abbiamo avuto Una bella giornata Siamo stati fortunati E insomma Diciamo Speriamo che anche i contenuti Siano stati utili E che vi abbiano dato Gli spunti utili Per fare trading Lunedì vi invieremo Tutto il materiale Che è stato utilizzato Compreso il materiale Di Gianluca E il video Dell'intera giornata Quindi se c'è qualcosa Che vi siete persi Potete riguardarvi Altre sei ore di video Ve lo invieremo noi Via mail Abbiamo già i vostri Indirizzi mail Con il link Esattamente Vi invieremo anche Come diceva Luca Stamattina Un form Con un questionario Per chiedervi I vostri feedback Sulla giornata Quindi non so Facciamo un esempio Meglio farlo al sabato O meglio farlo Un giorno della settimana A mercati aperti Non so se Per voi è uguale Per meglio Meglio sabato Che non si lavora Meglio venire sabato Venerdì Sabato venerdì Allora manderemo una mail Così allora potremo vedere Il giorno migliore Per farlo E anche su che tipo Di strumenti È meglio parlare Nelle buste Troverete un po' di materiale Su vari strumenti Quindi magari Se non li conoscete Potete farvi un'idea Nel prossimo seminario Che dovrebbe essere Il 6 maggio La data verrà confermata Naturalmente E vi chiederemo Se sarà meglio parlare Ancora di prodotti A leva O se è meglio Spostare il focus Un altro tipo di prodotti Questo naturalmente Dipende Dalle vostre risposte Da quello che preferite voi I PIR Il PIR Con noi non c'entrano Quindi non possiamo parlarne Ed erano comunque Nella prima pagina Milano Finanza Quindi niente Grazie a tutti A nome di BNP A nome di Milano Finanza Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti